I miei amici dicono che io capisco poco di macchine, però per dimostrare che non è così, io ho voluto sedermi su questa nuova macchina, tra virgolette, presentata qui al Salone Internazionale dell'Automobile di Francoforte. Si tratta di una Zundap Iaunus 250 del 1958. Questa è la vettura sulla quale io sono seduto comodamente qui al Salone Internazionale di Francoforte e devo dire che tra tante macchine moderne, tra tanta nuova tecnologia, fa anche piacere sedersi su una macchina storica che ha fatto parte sicuramente della storia dell'auto. E' con questo che noi finiamo. Ed è così che io vi ringrazio per averci seguito e sarà la prossima settimana sempre in questa rete, a questo orario, con Motor News. Grazie, arrivederci e buona settimana a tutti.